Bonjour à tous! Oggi andiamo a fare le professioni. Quindi, per rispondere alla domanda, chiedez votre profession? Che cosa fa nella vita? Qual è il suo lavoro? Vi anticipo subito che io ho scelto alcune professioni che si basano su quello che vi potrebbe servire se fosse all'estero. Perciò non è certamente esaustivo, sono pochine. Se ve ne interessano delle altre, dovrete per forza di cose andarvela a cercare sul dizionario. Ok? Cominciamo! Je suis. Per rispondere si deve dire sempre io sono più la professione. Non ci va mai l'articolo, eh? Quindi, je suis médecin. Médecin. Oppure, je suis infirmier. Infermiere. Je suis dentiste. Dentiste. Questo è uguale all'italiano, quasi. Je suis farmacien. Farmacien. Farmacista. Je suis veterinaire. Veterinaire. Si può anche dire in maniera abbreviata. Véto. E sì, lo potete usare al posto di veterinaire anche nei cedici. Quindi, je suis veterinaire o bien je suis veteau. Je suis policier. Policier. Gendarme significa carabiniere, una sorta di poliziotto carabiniere, una via di mezzo. Ok? È molto diffuso in Francia, più che il carabiniere in Italia. Gendarme. Je suis gendarme. Je suis pompier. Questo è semplice, semplice, semplice in italiano. Pompiere. Je suis, questa è una parola difficile, significa ladro. Je suis voleur. Ora, chiaramente il ladro non è una professione, però pensate che vi potesse servire nella vita, sapere come si dice. Je suis employé. En-ploi-er. Emploi-er. È l'impiegato, cioè la persona che lavora in un ufficio. Emploi-er. Je suis vendeur. Vendeur. È il venditore, il commesso. In questo caso io ho preso un venditore a porta a porta, ma è anche quello che lavora nel negozio. Vendeur. Je suis acteur. Acteur. Je suis acteur. Attore. Je suis danseur. Danseur. Ballerino, danzatore se non è in italiano, no? Quindi ballerino, danseur. Je suis cantante. Je suis chanteur. Je suis chanteur. Ora, le professioni che ho scelto io sono finite qua. Qual è il problema? Che se la professione è un uomo o una donna, bisognerà cambiarla, cioè fare i femminili come in italiano. Noi diciamo poliziotto o poliziotto. Come diavolo faccio a fare i femminili? Dovete esservi studiate le regole di grammatica che vi ho consegnato sulla fotocopia. Comunque adesso facciamo un brevissimo ripasso solo sulle professioni che ho scelto qua e andiamo a vedercele un po'. Se una parola finisce con la E è invariabile. Delle professioni che abbiamo visto prima c'era jondaire, veterinaire e dentiste. Queste sono invariabili, quindi la pronuncia sarà uguale sia al maschile che a femminile. Oppure, se una parola finisce in ER, al femminile farà ER, cioè aggiunge l'accento grave su questa E qua e poi si aggiunge una E. Per esempio, vedete che finisce in ER, per fare il femminile oppure polizier e l'altro ancora pompier finiscono tutti in ER. Per fare i femminili aggiungerò una E e un accento su quest'altra. La pronuncia, maschile, infirmier, femminile, infirmière, quindi cambia, polizier, polizier, pompier, pompier, quindi cambiano le pronunce. Quelli che finiscono in EN diventano N, cioè raddoppiano la N e aggiungono una E. Ne abbiamo visto solo uno, farmacien, che diventerà farmacienne. Anche qui cambia la pronuncia, occhio, eh? Farmacien, maschile, farmacienne, femminile, en, en. Oppure, quelli in ER, qui è l'unico in cui invece che aggiungere dovete proprio togliere. Togliete EUR, al suo posto va messo EUSE, la cui pronuncia sarà EUSE. EUR si toglie, si mette EUSE al suo posto. Andiamo a vedere. Voleur, finisci in EUR. Tolgo EUR, aggiungo EUSE. Voleuse, voleur, voleuse. Quindi cambia tantissimo la pronuncia. Voleur, voleuse. Danseur, tolgo EUR, metto EUSE. Danseuse. Vondeur, vondeuse. Metto il GUEUR, metto EUSE. Adesso che pensavate di aver capito tutto, cominciamo con quello difficile. TEUR. Anche qui tolgo TEUR, ma metto TRICE, la cui pronuncia è TRICE. Perciò abbiamo visto ACTEUR, diventerà ACTRICE. Tolgo TEUR, metto TRICE. ACTEUR, ACTRICE. Cambia tanto la pronuncia. Poi chiaramente, essendo francese una lingua sofisticata, chiaramente ci sono le EXCEPTION. Cioè quelle che non fanno quello che abbiamo detto adesso. Però grazie a Dio sono abbastanza facile, quindi coraggio ragazzi. Allora, ce ne sono tre di quelle che vi ho fatto io, quindi che voglio che sappiate. Ne abbiamo solo tre, se ce ne esistete. E su. Professor. Professor è l'insegnante, il professore. Finisce in EUR, ma non fa EUSE. Fa. E un altro modo, che vi dico tra un altro. Chanteur. E MEDECEAN. Allora, professeur dovrebbe fare professeuse, invece no, perché aggiunge solo una E. Diventerà professeur. La pronuncia uguale. Professeur, professeur. Chanteur, finisce in TEUR. Ciò nonostante fa EUSE. Chanteuse. Dovrebbe fare TRICE, invece no. Chanteuse. Chanteur, chanteuse. MEDECEAN è il più facile di tutti perché... TADAN! Resta uguale. MEDECEAN. Professeur. Chanteuse. MEDECEAN. Quindi sono uguali. Allora, voilà, c'è tu. Quindi abbiamo finito. Vi ricordo che per studiare il lessico dovete fare quello che è scritto lì. E quindi per saperli bene. Vi ricordo anche di svolgere il questionario in allegato. Bon, c'è tu. Donc, ciao. Alla prossima. Alla prossima.